infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì a tal misano di lonigo all'interno del capannone della ditta verralia due operai sono stati colpiti dal braccio di una betoniera sono stati portati in ospedale in codice giallo lo stabilimento dell'azienda che produce oggetti in vetro a sede in via del lavoro erano quasi le 18 quando nel corso di una gettata di cemento il braccio meccanico della betoniera forse per un cedimento di valvola elettrica ha colpito con violenza i due operai pare appartenenti ad una ditta esterna che sta compiendo lavori etili immediati soccorsi sul posto di ambulanze del 118 i due operai non sono in pericolo di vita ma hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati in ospedale i vigili del fuoco hanno provveduto dopo la stabilizzazione dei feriti a trasporto in superficie dalla fossa delle barelle reso alquanto complicato per la non presenza di scale pedonali